Per avere un caffè cremoso cosa bisogna fare? Bisogna avere delle miscele idonee o con delle arabiche lavorate in modo naturale o come la nostra classica un blend di arabica robusta sapientemente mixato e vi invito a guardare in questo caso una semplice ciarda la cremosità dal primissimo momento e qui vanno in estrazione notate che dal primissimo momento c'è una crema veramente invidiabile con un prodotto da bar e questo è ottenuto grazie a una sapiente miscela di arabica e robusta e nel nostro caso qui abbiamo brasilia e colombia etiopia indonesia ed india ecco abbiamo una tazza molto densa anche piacevole da bere con lo zucchero la crema rimane densa in modo da trattenere tutti gli aromi nel fondo e questo è un caffè con un gusto di cioccolato veramente cioccolatino buon caffè a voi